Buon pomeriggio dalla relazione del TG Grest. Siamo qua oggi con l'animatore Stefano. Buongiorno. Allora Stefano, tu che cosa fai in questo Grest quest'anno? Io sono animatore degli Azzurri e gestisco il gruppo di calcio insieme a Mauro, a Filippo e a Marco Canturi. Grazie. Che cosa ne pensi allora dei tuoi bambini di calcio? Ci sono molte soddisfazioni, imparano in fretta e si impegnano. E della tua squadra invece? No, la mia squadra sono contento anche se sono un po' movimentati, però stanno comportando bene, si va vincendo un sacco di partite. Ah, perlomeno questo. Dicevamo che questo non è il primo anno ma ti sei fermato per alcuni anni da Grest. Mi sono fermato. E come la trovi questa ripresa? No, la trovo molto buona. Padre Aldo come al solito è bravissimo, si impegna, ci aiuta molto e anche devo ringraziare anche le signore che sono qui, ci cugino, ci fanno la merenda, tutti quanti. Poi i bambini per fortuna sono sempre educati e ci divertiamo con loro. E quando ti sei fermato noi stavamo nel vecchio oratorio. Come ti trovi in questo nuovo? No, ho organizzato molto bene, ci sono delle bellissime sale, poi c'è un bel piazzale, è più facile da gestire rispetto all'altro. Forse l'unico problema è che dobbiamo spostarci il piettino per andare a giocare a pallone, però vabbè, alla fine è sempre qui vicino. Ho organizzato molto bene, ci troviamo bene tutti quanti. E invece come nei giochi che vengono svolti nell'orario? Io quando l'ultimo grafico ho fatto i giochi erano diversi, c'erano ancora balla a mano, palla prigioniera e bandiera francese. Adesso questi nuovi sono, i bambini si divertono e sembrano abbastanza buoni. Ci sono un paio di problemi con gli arbitraggi, le cose sono queste ogni anno. Quindi secondo te sono meglio i giochi che vengono svolti adesso oppure quelli che vengono svolti un paio di anni fa? Vabbè, un paio di anni fa io giocavo e forse mi divertivo un po' di più, però adesso vedo i bambini che si divertono e quindi penso che non ci sia una grande differenza, vanno bene tutti e due. Va bene, allora per adesso grazie dalla relazione del TG Cresto, un saluto particolare anche dal nostro amico Stefano. Ciao. Ciao, grazie. Ciao.